Si è conclusa con la premiazione dei 43 partecipanti la Turing International Summer School, progetto promosso dalla consulta europea in collaborazione con i più prestigiosi organismi internazionali che si occupano di formazione e ricerca. Il campus Luigi Einaudi ha ospitato i laureati e i professionisti ai quali è stato consegnato un diploma di partecipazione. I premiati provengono non solo dall'Università di Torino, ma anche da numerosi atenei europei, asiatici, africani e sudamericani. Questa esperienza diciamo che mi ha arricchito dal punto di vista accademico e personale. Il corso era focalizzato su uno dei temi più scottanti dell'attualità italiana ed europea. Mi chiamo Salomone, sono nigeriano e vivo in Italia dal 2008. Studio al Politecnico di Torino Ingegneria Meccanica e grazie ad alcuni amici ho avuto le informazioni per partecipare a questa Summer School che si focalizza sul tema dell'immigrazione. L'immigrazione è una questione che pone molte sfide, non solo per gli ingegneri e il mondo scientifico, ma per tutti. Ed è quindi per questo motivo che ho deciso di partecipare al programma per studiare i processi delle decisioni politiche, le questioni relative ai diritti umani e al come migliorare l'economia di un paese. E' un po' in prof.